Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con la dottessa Laura Bertola all'ospedale di Mondovì. Le chiedo subito quanto è importante questo giorno di oggi perché ci sono state le prime vaccinazioni, 24 di oggi. Le chiedo quanto è stato difficile organizzare tutto questo e cosa ha comportato questa giornata? Arrivare a questa giornata ha comportato sicuramente un grossissimo lavoro da parte di tutti gli attori che sono intervenuti per questa giornata così importante. La parte infermieristica è la parte che ho curato io e quindi quella che è stata l'organizzazione infermieristica. Devo ringraziare tutti i colleghi perché veramente sono stati di grande supporto e di una grandissima disponibilità. Una giornata importante anche perché speriamo che di qui in avanti possiamo sconfiggere questa malattia che comunque ci rende tutti schiavi e ha veramente creato dei grossi sacrifici per le intere famiglie. Oggi è la prima giornata, continueremo sabato e domenica tutto il giorno e tutta la prossima settimana. Dalle 7 di gennaio partiremo su tutte quante le sedi dell'ASCN1. Oggi siamo partiti sulla sede di Mondovì e sulla sede di Savigliano. Ok, perfetto. Le chiedo anche quando sarà poi la seconda dose che poi garantirà l'immunità, giusto? Oggi già mentre al termine della somministrazione della prima dose viene già immediatamente dato l'appuntamento per la seconda dose che sarà tra 21 giorni. Perfetto e garantirà l'immunità dicevamo? Sì. Dopo 7 giorni mi pare. Dopo 7 giorni, sì. Grazie mille. Grazie a lei.